Io sono stata la prima volta, mi ha fatto particolarmente piacere, vi ho rimasto anche il saluto della nostra ambasciatrice Teresa Rastato e come potete passare oggi, questa notte, oggi ha vissuto una giornata molto difficile in tutta Europa e quindi si porta il suo successo, anche lei, si porta il suo saluto, sapete che la ambasciatrice tiene molto la figura della donna non per niente lei è la prima ambasciatrice nonna italiana in Argentina, da come esiste la Repubblica Italiana è un psicomatico ambasciatore qui, quindi si è molto amoso per le donne, c'è moltissimo il tema delle donne quindi probabilmente avrebbe avuto tanto piacere di trovare qui